Continua la lotta all'inquinamento ambientale da parte dei carabinieri della compagnia di Giuliano in Campania che questa volta hanno controllato insieme a personale della polizia municipale e dei militari dell'esercito italiano un grosso rimessaggio per imbarcazioni a via San Francesco a Patria. Durante l'operazione nell'area da 5.000 metri quadrati è stato accertato che l'attività gestiva illecitamente rifiuti. Diversi infatti i delitti di barchi ammassati senza le previste autorizzazioni ambientali e senza la documentazione relativa alla prevenzione degli incendi. L'area con all'interno 141 barche e due acquascooter è stata sequestrata. Per il titolare dell'azienda una denuncia e sanzioni amministrative.